disimballaggio e configurazione della versione aggiornata di hp reverb g2 salve e benvenuti in hp how to for you il blog dell'assistenza clienti hp io sono stef io sono bill siamo qui per offrirvi suggerimenti trucchi e informazioni pratiche per aiutarvi a ottenere il massimo dai vostri prodotti hp oggi vedremo come disimballare e configurare hp reverb g2 il visore vr di hp completeremo la configurazione con un terzetto di nuovi aggiornamenti che migliorano ulteriormente i nostri visori originali pluri premiati cominciamo la confezione permette di accedere facilmente a tutto il contenuto il cartone sagomato permette di ridurre l'uso di plastica adoro il fatto che hp si impegna a creare un futuro più sostenibile nella confezione troviamo il visore il cavo oculink per usb type c e display port abbiamo poi i controller e le batterie insieme all'alimentatore e al cavo di alimentazione infine troviamo due adattatori uno da usb type c a usb type è uno da display port a mini display port se dovesse servirvi il numero di serie del vostro visore potete trovarlo sotto la mascherina sul lato sinistro vediamo ora i requisiti di sistema e le specifiche tecniche i requisiti di sistema di base comprendono assicuratevi che sul vostro sistema sia disponibile l'ultimo aggiornamento di windows 10 maggio 2019 o versioni successive in quanto sono stati apportati importanti miglioramenti a windows mixed reality il sistema operativo in uso deve essere windows 10 versione 1903 1909 2004 o successive assicuratevi di mantenere sempre aggiornati il sistema operativo il software e il firmware è supportato anche windows 11 per quanto riguarda i processori i5 o i7 di ottava generazione o superiore intel xeon e3 1240 v5 equivalente o superiore oppure amd ryzen 5 1400 o superiore almeno 8 gigabyte di ram display port 1.3 usb 3.0 è una scheda grafica che supporti direct x 12 attualmente dovrebbero essere compatibili tutte le schede grafiche di fascia medio alta disponibili sul mercato tuttavia alcune di queste potrebbero supportare solamente una risoluzione dimezzata ricordate che quando verranno rilasciate schede più recenti dovrete verificarne le caratteristiche per accertarvi che funzionino con il visore hp reverb g2 consultate il documento delle specifiche rapide sul sito hp puntocom per informazioni più dettagliate e aggiornate per comodità abbiamo inserito un collegamento nella descrizione del video sottostante prima di provare la realtà virtuale con il vostro nuovo visore dovete verificare alcune impostazioni sul vostro pc selezionate start impostazioni aggiornamento e sicurezza selezionate windows update e installate eventuali aggiornamenti gli aggiornamenti possono variare in base alla configurazione personale una volta eseguiti gli aggiornamenti e riavviato il pc selezionate start portale realtà mista fate clic sulla guida introduttiva windows mixed reality mette a disposizione una verifica del computer in uso per accertare che siano disponibili le risorse di sistema necessarie per utilizzare l'artware fate clic su accetto per accettare e continuare la verifica del sistema dovrebbe segnalare che il sistema è in grado di supportare le esperienze di realtà mista in caso contrario individuate gli ambiti in cui le specifiche tecniche non sono rispettate e agite di conseguenza potete ad esempio liberare spazio su disco oppure aggiornare il driver della scheda grafica fate clic su avanti adesso arriva il divertimento a partire dal collegamento del visore lascerò che se ne occupi bill il primo e più importante passaggio consiste nel collegare il visore al cavo ocu link per usb tipo c e display port uno degli aggiornamenti principali di hp reverb g2 è la disponibilità di un cavo lungo 6 metri per aumentare la compatibilità con il sistema che usate per inserire completamente il cavo nel visore dovrete rimuovere la mascherina dal visore inserire il connettore del cavo con il lato con il pallino rivolto verso l'alto nell'alloggiamento lungo il bordo superiore del visore spingete finché non avvertite uno scatto se il palino sul cavo è alineato al bordo del visore significa che il cavo è correttamente inserito riapplicate la mascherina sul visore accertatevi che il cavo scorra sopra il telaio del visore e attraverso l'apposito anello sul retro del visore lasciate un gioco sufficiente per portare il visore nella posizione rialzata quando necessario vedete come si sposta il cavo mentre solleva il visore ora passiamo al collegamento al pc all'estremità sono presenti due connettori uno di tipo displayport di dimensioni standard e uno di tipo usb tipo c sono necessari entrambi per utilizzare il visore se utilizzate un sistema desktop collegate il connettore displayport alla porta displayport sulla scheda video sul retro del pc e il connettore usb c ha una porta usb c disponibile sul pc preferibilmente nella parte posteriore la porta usb c sulla scheda video o sul lato anteriore del pc potrebbe non supportare le funzionalità necessarie per il visore ecco perché vi consigliamo di collegarlo alla parte posteriore se non disponete di una porta displayport di dimensioni standard potete utilizzare l'adattatore da displayport a mini displayport se non disponete di una porta usb c potete utilizzare l'adattatore da usb c a usb a proprio come vedete su questo notebook una nota importante il visore necessita di displayport 1.3 o versioni successive quindi non potete utilizzare un adattatore da displayport a hdmi pertanto se non disponete di una porta displayport sulla scheda grafica il visore non funzionerà come potete vedere su questo notebook come ultimo passaggio dovete alimentare il visore collegate l'adattatore ca in dotazione alla scatola di giunzione il visore vr non funzionerà se non viene prima collegato e acceso ora dobbiamo regolare il visore per indossarlo la fascia deve essere ruotata verso l'alto tenete il visore davanti agli occhi con una mano quindi tirate la fascia verso il basso con l'altra mano regolate gli altoparlanti sulle orecchie in modo da ottenere un'esperienza sensoriale completa quando avete finito di usare il visore procedete in ordine inverso per rimuoverlo questa procedura è importante perché se i display non sono allineati con gli occhi l'immagine potrebbe risultare sfocata lo scorrimento del visore per indossarlo e rimuoverlo potrebbe causare un disallineamento dei display rispetto agli occhi ma uno degli aggiornamenti principali di hp reverb g2 è il nuovo design della guarnizione per riposare gli occhi che può essere impostata a 9 millimetri o 15 millimetri per consentire agli utenti una regolazione idonea alle proprie capacità visive una volta acceso il visore vorrete regolarlo utilizzando i dispositivi di fissaggio a strappo ne troverete uno nella parte superiore e uno su ogni lato da allentare stringere per adattare perfettamente il visore al vostro viso il retro del telaio del visore deve essere posizionato in corrispondenza del lobo occipitale questa posizione migliorerà il vostro campo visivo in windows mixed reality fate clic due volte su avanti l'app effettuerà la ricerca dei controller i controller vengono abbinati immediatamente ma se risultano non connessi dovrete accenderli tenendo premuto il pulsante windows sul controller per tre secondi se i controller non si connettono potete abbinarli manualmente facendo clic sulla funzione di abbinamento manuale nell'app se i controller sono abbinati ma non connessi dovrete rimuovere l'abbinamento prima di tentare di eseguirlo di nuovo seguite quindi le istruzioni visualizzate sullo schermo il pulsante di abbinamento si trova nel vano batteria già che lo avete aperto dovreste controllare le batterie accertatevi di utilizzare batterie alcaline a a nuove per una maggiore sostenibilità potete utilizzare batterie ricaricabili con una tensione di 1,5 volt ricordate che molte batterie ricaricabili hanno una tensione nominale di soli 1,2 volt e non forniscono un'alimentazione sufficiente ai controller controllate il voltaggio e anche voi potrete essere sostenibili fate clic su avanti in questa schermata per conoscere i controller in uso il terzo aggiornamento principale di hp reverb g2 è proprio questo il tracking migliorato dei controller il tracking migliorato avviene al di sotto della vita con una copertura dell'area verticale aumentata del 30 per cento questo aggiornamento sarà incluso anche in hp reverb g2 omnicept edition dopo aver conosciuto i vostri controller fate clic su esci per avviare la configurazione di windows mixed reality se lo spazio a vostra disposizione è limitato potete utilizzare reverb g2 da seduti ma per un'esperienza di realtà virtuale completa è consigliabile utilizzare il visore in piedi stabilendo i confini del locale a questo scopo seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo una volta definito lo spazio indossate il visore e godetevi il portale realtà mista di windows il nuovo ambiente domestico virtuale per i dispositivi windows mixed reality offre una riduzione significativa della portata e delle dimensioni e semplifica l'esperienza riducendola un palcoscenico singolo al posto della cliff house ricca di funzionalità che abbiamo utilizzato negli ultimi anni realizzato pensando alle prestazioni infinite expanse è stato progettato per rispondere alle esigenze dei clienti di lunga data che chiedevano un ambiente domestico virtuale meno dispendioso in termini di risorse per godere di prestazioni ottimali durante giochi ed esperienze il nuovo ambiente domestico virtuale è disponibile nel pannello le mie scelte all'interno del menu luoghi quello che ora vedete sullo schermo è ciò che bill vede nel suo visore vr reverb g2 è stato creato in collaborazione con microsoft evolve nel nuovo ambiente potete iniziare più velocemente a giocare con i giochi di steam vr una nuova impostazione per avviare automaticamente steam vr quando viene lanciato portale realtà mista vi consente di saltare l'ambiente domestico virtuale di windows mixed reality e di passare direttamente a steam vr questa nuova impostazione è disponibile nell'app impostazioni di mixed reality selezionate app di avvio dal menu start sul desktop per configurarla potete regolare anche altre impostazioni che vi permettono di controllare la personalizzazione dell'esperienza di avvio di windows mixed reality potete scegliere se avviare portale realtà mista dal plugin head mounted display potete scegliere se avviare mrp quando viene rilevata una presenza e potete scegliere se inserire l'app apri desktop tra le app in evidenza sul desktop l'avvio delle applicazioni può essere eseguito dal portale realtà mista di microsoft o tramite steam vr ricordate che portale realtà mista di microsoft è indispensabile per eseguire qualsiasi applicazione vr se volete accedere ai giochi tramite steam dovrete aprire entrambi per poter giocare o lavorare potete spegnere il visore tenendo premuto per tre secondi il pulsante di accensione sulla scatola di giunzione o scollegando l'adattatore di alimentazione dalla scatola di giunzione e con questo abbiamo concluso potete trovare altri video come questo sul nostro canale youtube all'indirizzo youtube.com barra hp support potete trovarci anche su twitter e facebook nei nostri canali di supporto e nella nostra community hp support all'indirizzo community.hp.com sulla scheda degli accessori di gioco potrete trovarci insieme ad altre persone esattamente come voi intenti a rispondere alle domande sui prodotti hp in uso ciao fate click sulla scheda playlist di youtube per trovare i video di hp in altre lingue cercate nel nostro canale i video ufficiali del supporto hp di youtube per aver guardato il nostro canale i video di youtube per aver guardato il nostro canale i video